Oggi iniziamo con il tema natale ma prima di iniziare le decorazioni a casa ci facciamo un andiamo a comprare un nuovo look perché quando si fanno le decorazioni bisogna avere il look adatto per entrare sempre di più nel mood natalizio e vamos la abbiamo trovato cose interessanti sono contento mi piace anche questa atmosfera così piovosa entriamo ancora di più nel nell'atmosfera dai nel mood e dopo il look è arrivato il momento di prendere gli addobbi natalizi in cantina a Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e adesso mettiamoci all'opera e vamos là! Cambio l'unfatto e adesso finalmente procediamo con le nostre decorazioni natalizie. Grazie a tutti! Un po' di vino per William che come dice lui col vino lavora meglio, quindi glielo versiamo con le nostre decorazioni natalizie. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti